SEMO BESSI! DRRRR! SEMO BESSI! SK! SEMO BESSI! DRRRR! SEMO BESSI! LIVERANI QUA C'È MENZO! Seguro se è chiesto da frondolino, picchiavi se hai problemi a nascere. Vuole nascere a poi sarei cacca. Se sta a fermare un'accappa a gol, e questo non è mai la prima volta. Nel secondo tempo abbia un liscio clamoroso, non ha caccappato moschiti, pacca reddi, fungifera, eva, fumigoli, tutto. C'hanno un pallone. E c'è buona che non ha caccappato un secondo. SBALLAO! Garufo sei è MENZO! L'emblema era una squaccia che ancora è pesca. Sei picchino da rosa e ci sono. Chi è che ha giocato nella Premier League? Un brasiliano capocannoniere? Chi è che si sente Cristiano Ronaldo? Da occhio capolissimo che era in categoria superiore? I grossi più belli arrivano le sue peri? Su tutta è vista una sua voglia di fare, di curare e di spaccare legamenti. A stura si potevano fare dalle arenda facci. Garufigno! FERRARIO C Ammitacea Homo erectus e Homo sapiens si colloca all'Homo ferrarius. Questo primate ha la particolarità di avere arti e crani occhi e spigoli. Questa confumazione ossea gli permette una agevolazione nel non essere attaccato dalle prede ed una irregolarità di traiettorie quando copisce oggetti che veri e cadesta, specialmente se questi sono di forma sferica. Particolarità rarissima nel mondo animale è la pupilla a spigolo che non gli permette di vedere coave da reri. La specie dell'Homo ferrarius si accoppia durante il sosticchio d'inverno, ma solo a seguito di un'espulsione ciocco bestia. Nella prossima puntata parleremo di una spora che sostituisce i cevelli in alcuni esseri, la Caterinia. Beggamelli, scinga e menzo. C'ha Ferrari e le parane e si pezzi. Ciamonio, non capio chi ho nendi. Indilt. Munziella, qua c'è menzo. Sta regredendo allo stadio monzoniano dei tezzini sinissi. Ha settato lo piccissimane di fila a fare citaliare i partiti di Paolo Maddini. Tanto sussisato coi che partita piccamore è magari meglio. Ciacollo. Di cecco e scingo. C'è una pira maglia bagnata. Ma tu li picchi sdiluviando a primo tempo. Da un secondo tempo, quando ha visto a fare i occhi, sai ciò che è in difficoltà di Garofo quando ha leggere il libro? Pesso. Ragazzi, sei. La notte è coglione rispetto alla mummia. Se entri sobbendo a ben severi, si torna a giocare il pallone. Piccato che in fase di contenimento ha la stessa consistenza di una fiattona che si sconcia a condire. C'è, non saprei che... C'è che si affronta. Cristiano Ronaldo Russotto? 9. Un gambione assoluto. Intrappolato nel corpo di una pippa. A poi giustamente il nivuso di chiuno come Hiddo. Chi ci fa, cacca tania? Merita paccoscenici migliori. Attivo Hiddo Roccatto Blu. Tanto fa rire che sta legge una storina. CRR peso. Bombastic sei e menso. Sua scossa partita fu meno peggio. Stavota fu meglio. Pippa condicio. Su all'andata ne segnalano out. Ora segna la sua ex squaccia. Si viri sia in fase difensiva che nella guida offensiva. Ora la domanda è... Da una squacciglista quando ora... Ai posteriori la tua sentenza. Faccone sei. In dei primi minuti Gutericci agghiaccia una palla. Facendo menso miracolo. Si procura il rigore. Che non ne resono. Chiudi un'ammunizione. E Gioca è buono sia a destra che a sinistra. In realtà Gioca è meglio sul tos del lupio. La prossima volta. Quando Gioca città di cicciare l'acqua. Tipo quando Gioca mandò tutti che spaccavi picciare i casi. Palla davanti e acqua da rire. Galilci è menso. Si ammucca l'ammuccabile. Gioca si muove, si smacca il cuore. Ma a dire a cinciana botta. Meno una vota. Una. Magari più sbaglio. Niente. Nel secondo tempo. Ficci in coppia testa. Meccio la botta. Capastica. Aveva sciatica. Più fuori formare. Plasmati. Caderini. Senza voto. L'allenatore da Juve Stabio. Facciassero. Per fare la difesa a 5. E blendare un risultato. Lupoli. Senza voto. E come su questo rubano. Più il deposito. Conciatta all'otto. Su accattavano una guandaria dei pasticcini. Ci facevano molto più con bassa. Castagnola. Castiglia. Senza voto. Rientro in bottante. Se volete avviare i cenciocampisti a cenciocampi. Invece il giocatore roto. Speriamo che la prossima cominci a muoversi. Invece il giocatore di femmo. Moriero. Sei e mezzo. D'inguaraggiamento. Il primo tempo. E' un'altra volta. Lo facciamo magari finito. E' un po' di occasioni. Lo secondo tempo. Dovevo essere solito. E con tutto questo. Un'occasione che lavorano. E' un po' di casa. A meno. Ed ognuno se stavamo. E muoviti su di su. Che razza con 7. E magari qualche schiglio. Anzi. Si fai magari una carattata di acqua. E puoi dispronarlo in poco. All'ultimo magari che ero muono o meno ci dice a tutti pare di abbiare se in avanti e picciccare di pincilla Fosti piccoli spiragli di luce ma mori moriero